Oggi voglio rispondere a questa domanda che alcune persone mi riportano. Mi dicono, Paolo io parlo di liberi dal lavoro con amici e con parenti e loro mi chiedono ma funziona il percorso di liberi dal lavoro? E io dico, ma come, abbiamo centinaia e centinaia di testimonianze ormai da anni, persone che da anni guadagnano più di 10.000 euro al mese con liberi dal lavoro e ancora c'è questa domanda. Va bene, allora stasera provo a dare una risposta anche da un altro punto di vista, che è questo, quello di analizzare dei semplici numeri. Questo è il grafico degli abbonati che abbiamo a bonus automatici. Grafico che è facilmente verificabile poi nei nostri gruppi guardando quante persone sono nel gruppo Facebook di bonus automatici. E come potete vedere, gli abbonamenti a bonus automatici nel tempo, dal 2018 fino a pochi mesi fa, sono andati increscendo in maniera esponenziale, costantemente. Più pubblicavamo i risultati e più crescevano. Ora è un po' che non pubblichiamo i risultati e in realtà abbiamo anche tolto la divulgazione, quindi sono successi anche un po' di cambi ai livelli dal lavoro, però vedete che gli abbonati non scendono, si mantengono costantemente intorno a questa cifra. Più di 1.200 abbonati, quasi 1.300. Ora io mi chiedo se il nostro percorso non funzionasse. Queste persone continuerebbero a pagare l'abbonamento ogni mese senza avere risultati? Andiamo a guardare anche altri due grafici. Da questo grafico vediamo che anche il percorso Secret Bonus, che è la parte finale del percorso, ha esattamente lo stesso andamento. Meno utenti perché chiaramente di quei 1.300 utenti ancora alcuni stanno finendo il loro percorso. E poi da quando abbiamo smesso di postare i risultati c'è comunque un mantenimento, una retention molto alta. Leggermente calante se vogliamo perché naturalmente dopo un po' le persone quando arrivano al club dei 10k si staccano anche dai bonus. Quindi è normale che a un certo punto uno dopo un po' smetta di fare i bonus. Non è che bisogna farli tutta la vita. Abbiamo invece avviato delle nuove iniziative. Questa è la Tana dei Cacciatori di Bonus, dove anche in questo caso gli abbonamenti sono andati increscendo fino a un punto di stabilizzazione. Poi adesso abbiamo cominciato a pubblicare i risultati di tutte le iniziative che abbiamo portato all'interno della Tana e guardate che succede. Anche in questo caso ogni post fa salire il numero degli iscritti. La cosa interessante è che poi non scendono. Quindi è evidente che gli utenti sono soddisfatti di questi servizi. Ho fatto vedere questi grafici altre volte per commentare altri servizi e per far vedere come alcuni erano molto fruibili perché la retention era alta altri erano meno fruibili perché le retention erano basse e noi liberi dal lavoro, sto parlando di servizi cripto in questo caso siamo andati a lavorare per modificare, migliorare, cambiare, evolvere i servizi con le retention basse perché quando c'è una risposta dei nostri utenti così chiara è evidente che noi dobbiamo assolutamente andare incontro alle persone. Quindi laddove le cose vanno bene sono questi grafici che ce lo dicono e laddove le cose sono da migliorare sono sempre questi grafici che ce lo dicono. Quindi il percorso di liberi dal lavoro funziona? Sì, non è un'opinione, sono i numeri che parlano oltre alle centinaia di testimonianze che potete trovare dappertutto sul nostro sito qui su YouTube nella playlist apposita all'interno del gruppo ce ne sono tantissime, tantissime, tantissime. Sì, non è un'opinione.